Buongiorno, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli, costretto a subire continue violenze e vessazioni. I carabinieri di Trieste hanno arrestato la madre di un ragazzo di 13 anni, l'adolescente veniva continuamente picchiato tra le mura domestiche. Continue violenze e vessazioni, situazioni di degrado commesse dalla madre nei confronti del figlio 13enne, sono state scoperte dai carabinieri di Trieste grazie alla segnalazione di una donna che ha richiamato l'attenzione dei militari. I primi elementi raccolti hanno fin da subito avvallato i sospetti sulla madre, una 52enne commerciante di Trieste e anche grazie alla tempestivazione della procura sono immediatamente scattate le indagini da parte del nucleo investigativo. Le intercettazioni ambientali attivate in abitazione hanno reso in brevissimo tempo prova delle violenze e delle vessazioni che il figlio era costretto a subire dalla propria madre, che a suo volto lo aveva ben istruito sul cosa dire nel caso in cui qualcuno gli avesse chiesto conto di segni lividi e graffi presenti sul suo corpo. A rendere il quadro ancora più drammatico, la situazione di degrado igienico in cui versava l'abitazione. La totale sudditanza del ragazzo nei confronti della mamma ha condotto l'autorità giudiziaria a richiedere immediatamente l'arresto della donna e a disporre la custodia cautelare in carcere. Il ragazzo è stato invece affidato ai servizi sociali ed inizierà un percorso di recupero psicologico. La sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco di Udine ha accertato che di natura a Dolosa all'incendio ha piccato lunedì sera in una zona campestre di Gonars ad un autogru della SNAM. E' di origine Dolosa l'incendio che lunedì sera poco prima delle 21 ha completamente distrutto un autogru della SNAM in una zona di campagna di accente a Via dei Molini, a Gonars. A stabilirlo sono state le perizie effettuate dalla sezione di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco del comando provinciale di Udine, interessati anche i carabinieri della compagnia di Palmanova. In quell'area sono in corso lavori di posa delle condutture per il metano. Al momento non risultano esserci persone indagate, una denuncia è stata comunque esporta nei confronti di ignoti. Un episodio doloso dietro al quale potrebbe celarsi la mano di una persona poco accorta che nella piccare le fiamme avrebbe utilizzato tecniche alquanto rudimentali. L'impressione è che non si tratti di un professionista. Versa in gravi condizioni la 38enne ungherese in vacanza con marito e figlio a Lignano, caduta ieri sera in bicicletta nel lungomare Trieste. Per causa in corso di accertamento dalla polizia locale, la donna in sera alla propria bici alla quale era agganciato il carrerino nel quale era saluto il figlio letto e finita a terra battendo violentemente la testa. Dopo essere stata accompagnata all'ospedale della Tisana è stata trasferita al nosocomio di Udine in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Raccordo autostradale della barriera dell'Isert al confine della Slovenia chiuso al traffico questa mattina sul carso triestino in direzione Venezia a causa di un mezzo pesante in avaria. Un tiro intorno alle 6.30 ha preso fuoco. Il conducente è riuscito prima a sganciare rimorchio mettendo in salvo una parte del mezzo e poi ad uscire autonomamente nell'abitacolo. è stato portato in ospedale per accertamenti. L'ANAS consiglia di uscire a padriciano in carso. Sul posto sono tenuti i vigili del fuoco, le squadre ANAS e le forze dell'ordine. La regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato 2 milioni di euro per la realizzazione all'interno dell'area dell'ex caserma Osoppo a Udine della palestra di Roccia. La struttura sarà alta 18 metri. All'interno verrà realizzato un paesaggio artificiale con piante che andranno a ricreare un ambiente montano e saranno insalati dei giochi per bambini. L'edificio sarà realizzato con materiali sostenibili e sarà in gran parte rivestito da pannelli fotovoltaici. La palestra potrà servire anche all'esercitazione dei vigili del fuoco o di tutte le attività artigianali che necessitano dei corsi abilitativi. Il valore complessivo dell'opera è di 3,2 milioni di euro. E veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1.316, sono stati rilevati con 7.104 trantamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 7, mentre le persone ricoverate in altri reparti 276. Si registrano 4 decessi, 1 a Pordenone, 3 a Trieste. La regione Friuli-Venezia-Giulia fa scuola per aver evitato di usare lo strumento del click day per erogare i contributi alle aziende. Ora Confartigianato nazionale presenta un esposto per chiedere l'abolizione in tutta Italia. Il Friuli-Venezia-Giulia evita i click day e fa da esempio per tutta Italia. È questo in sintesi quello che sottolinea Confartigianato nazionale che ha presentato all'autorità garante della concorrenza e del mercato un esposto in cui si chiede di abolire lo strumento del click day per erogare i contributi alle aziende. Uno strumento che nella nostra regione non è stato utilizzato. La regione ha organizzato l'accesso ai contributi da parte dell'impresa artigiana con il sistema a sportello, ha sottolineato il presidente di Confartigianato Friuli-Venezia-Giulia Graziano Tilatti, secondo quindi il principio di sussidiarietà orizzontale, ovvero gestendo le domande e l'erogazione di contributi attraverso il Cata. Questo sistema ha dimostrato di funzionare perché consente di calibrare e indirizzare le risorse laddove veramente servono, ha spiegato Tilatti. Confartigianato nazionale ha richiesto l'abolizione del click day perché è ritenuto inefficiente e casuale nell'assaginazione dei contributi, senza quindi un'efficace selezione. A differenza invece, ha concluso il presidente regionale degli artigiani, di quanto si fa nella nostra regione. Le medie e grandi imprese della Friuli-Venezia-Giulia cercano persone in grado di guardare al futuro. I dati sono stati presentati durante due tavole rotonde del Mib. Digitale, sostenibilità e cambiamento sono questi tre settori nei quali le aziende del Friuli-Venezia-Giulia cercano figure professionali. Il dato è stato presentato al Mib di Trieste, la scuola di management, nel corso di due tavole rotonde sul futuro. L'analisi è stata effettuata su 87 aziende regionali di medie e grandi dimensioni. I risultati evidenziano una grande richiesta di persone da inserire nel management di medio livello, dove sono richieste competenze di data science, project management, tecnico-ingegneristiche, ma anche di digital marketing e sostenibilità. Tra le altre figure richieste, anche professionisti in grado di gestire processi di cambiamento all'interno delle aziende e la gestione del personale e poi chi ottimizza le risorse umane sfruttando le diversità che possono essere di genere, di cultura o altro. Una impresa su cinque, inoltre, ricerca anche meccanici, elettricisti, idraulici, manutentori addetti alla produzione, tecnici elettronici e meccanotronici. Francesco Veniere, direttore Executive Education al Mib, sottolinea che per formare queste persone è necessario rafforzare in maniera significativa la sinergia tra mondo produttivo e istituti formativi con un orizzonte che, grazie alla diffusione del remote working dovuto alla pandemia, si è trasformato da locale a nazionale, in alcuni casi in globale. L'avvertenza Varsila resta sempre in primo piano. Domani a Trieste si terrà la manifestazione in difesa dello stabilimento, mentre ieri il Governo ha confermato in Parlamento la strategicità della produzione accogliendo un ordine del giorno del PD. L'impegno del Governo c'è ed è ulteriormente certificato dall'accoglimento dell'ordine del giorno presentato da Deborah Serracchiani. Il parere favorevole dell'esecutivo sulla avvertenza Varsila, spiega la capogruppo del PD alla Camera, alza ulteriormente il livello di impegno delle istituzioni nazionali. Il collegamento con la ratifica del Parlamento nell'adesione della Finlandia alla Nato prosegue, pur tenendo distinte le due situazioni, riconosce che la produzione di Trieste ha un valore strategico nazionale e come tale va trattata. Domani intanto la città si prepara alla manifestazione in piazza della Borsa con gli operai che terranno anche un flash mob. Oggi chiediamo che domani in piazza ci siano i lavoratori, ma ci devono essere le famiglie, ci devono essere i nostri ex dipendenti, siano lievito per dimostrare che la città non è morta. Sanno tutti cosa sta succedendo qui da noi, adesso la politica deve fare il suo percorso e noi dobbiamo metterci qui in presidio e lottare tutti assieme. Questo è un inizio di un percorso che porterà ad altri appuntamenti per far emergere sempre più la grave realtà che sta succedendo in questo territorio. La Dea Bendata ha baciato Casarsa della Delizia vinti con un 5 più 1 del Super Enalotto 750 mila euro, ora è caccia al fortunato. Una vincita da 750 mila euro e quella realizzata ieri sera con un 5 più 1 del Super Enalotto al bar Pascià di Casarsa della Delizia. La Dea Bendata questa volta ha baciato la città di Pasolini dove è subito scattata la caccia al fortunato vincitore. Io vorrei sapere soprattutto chi è perché cavoli devo fargli proprio complimenti, vorrei vincere lì anch'io. Comunque è stata abbastanza emozionante, io ieri sera ero qua, è una certa tutti emozionati, non si capiva perché, ogni cliente che entra dice proprio ma chi è l'affortunato, chi è l'affortunato io gli vorrei saperlo anch'io, ma proprio beato, complimenti. Sendo proprio sulla statale è anche complicato capire chi è stato, però insomma si vorrebbe anche sapere. I clienti cosa stanno dicendo da stamattina? Da stamattina tutti a dire beato lui, beato lui, questa cosa ne fa, va in vacanza e concordo con loro. Se fossi stata a vincere 750 mila euro che cosa faresti? Io sarei andata in Antarkt, dove nessuno mi rompe le scatole, è sincera, è sincera. 8 milioni e mezzo di italiani, secondo la Col di Retti, andranno in vacanza insieme ai propri cani e gatti. Anche nella nostra regione in crescita l'offerta turistica all'insegna del pet friendly, siamo andati a Lignano-Sabbiadoro. Gli abbandoni purtroppo continuano, però lottiamo appunto perché gli spazi siano sempre di più, i servizi siano garantiti e quindi ritengo che sia un elemento che vada a estinguersi. Quindi è un invito a pensare sempre di più, a trascorrere le vacanze insieme agli amici a quattro zampe, Lignano e forte su queste strutture pet friendly che permettono alle famiglie di trascorrere al meglio la settimana, il weekend, il periodo di vacanza che dicono trascorrere, ospitando anche gratuitamente il proprio animale a quattro zampe e potendolo portare insieme con i propri proprietari a fare colazione o accedere agli spazi comuni e agli alberghi. In tanti scelgono Lignano-Sabbiadoro proprio perché c'è questo tipo di servizio? Assolutamente sì, Lignano è forte su questo argomento, sempre di più sta diventando pet, sempre di più pensa a questa nicchia turistica e quindi per questo ritengo che Lignano sia molto forte non solo per il gruppo Doggy Beach ma anche per gli altri alberghi e per i ristoranti che quotidianamente ospitano e garantiscono sempre la ciotola d'acqua o altri spazi o altri servizi per i cani. Siamo allo sport, ieri è stata svelata la prima giornata di calendario della prossima 2 di basket, oggi sono state presentate tutte le accoppiate per la regular season, occhi puntati ovviamente sul derby tra Gesteco Cividale e Apu Old Wild West. Primo round a inizio dicembre. UEB Gesteco Cividale contro Apu Old Wild West, il derby friulano di A2 si giocherà sabato 7 dicembre alle 20. È l'appuntamento clou del nuovo calendario svelato questa mattina dopo l'anticipazione di ieri per la prima giornata. E ospitare il primo storico derby di A2, anche se in realtà le squadre si saranno già incontrate in Supercoppa, sarà il Palagesteco di Cividale per l'undicesima giornata di regular season. Ritorno fissato al Carnera per il 5 marzo, praticamente a fine corsa della stagione regolare e già con gli occhi puntati su fase ad orologio e playoff. Dopo l'esordio casalingo contro Chieti, Cividale affronterà la prima trasferta a Mantova per poi tornare in casa contro Ravenna. Al Palagesteco si giocherà sempre sabato sera alle 20, salvo casi particolari richieste delle società ospiti. Esordio in trasferta invece per l'Apu contro Ferrara, con la prima in casa contro Sansevero. Altra data assegnata in rosso per la UEB è il 29 ottobre, quando al Perusini arriverà la Fortitudo Bologna, che si fermerà in regione una settimana per affrontare il turno successivo l'Apu al Carnera. Sicuramente iniziare bene il campionato sarebbe positivo, ha commentato il coach della UEB Stefano Pilastrini. E credo che l'esordio contro Chieti sia un bell'ostacolo. È una delle probabili candidate come noi alla lotta a salvezza, quindi affrontarlo all'esordio in casa ci mette subito di fronte a una situazione da non poter sbagliare. Il telegiornale termina qui, ma subito dopo la pubblicità appuntamento con a voi la linea. Grazie per l'attenzione e buona giornata. Grazie a tutti.